L'accostamento a Satana di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, sta creando non poche polemiche. A suscitarle la copertina in edicola oggi del settimanale Famiglia Cristiana, di fronte alle polemiche serve davvero poco la precisazione del settimanale, secondo cui non c'è niente di personale. Sicuramente siamo comunque a limiti del buon gusto. L'espressione originale vade retro Satana è riferita alle parole di Gesù tentato nel deserto ed è usata nel linguaggio comune per lo più scherzosamente, ogni qual volta si vuole respingere degli inviti poco chiari. Nel nostro caso la frase usata per contestare le iniziative del ministro sono semplicemente fuori luogo perché non aiutano certo il dialogo e non servono alla causa dei migranti. Famiglia Cristiana nello stesso numero pubblica l'intervento dell'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro nella sua qualità di presidente nazionale della Caritas. Noi, scrive il Cardinale, non possiamo risolvere problemi complessi come quelli dell'immigrazione e della povertà che esigono politiche al servizio di tutte le persone e adatte a garantire la sicurezza. Ecco, anche Montenegro parla del bisogno di sicurezza che è il tema che sta più a cuore ai cittadini. Per questa ragione non servono scontri o frasi ad effetto come quella di Famiglia Cristiana. Serve solo la collaborazione di tutti e convincersi comunque che la malavita non ha colore.